Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mauro Torritore. In questo video dimostrerò il ritrovamento di una pietra, pietra calcarea che ha assompa una forma molto particolare grazie all'azione delle acque negli ultimi migliaia di anni. Dei trattamenti che ho fatto per pulirla dalle incrostazioni di terra che aveva insieme al moschio e soprattutto di come ho fatto, come ho realizzato una base per farla stare in piedi, vedete che ha una forma che le permette di avere una posizione piacevole a vedere, retta, è una base di legno di olivo, questa volta non ho usato il tornio ma ho utilizzato altri macchinari per la realizzazione della base. ci vediamo poi alla fine del video, buona visione. Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Un commento e soprattutto se vi iscrivete al mio canale sapete che fate una cosa gradita. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.